chiamo la gente si riempiono in tre secondi e questo è una cosa bella però poi non l'ho più visto alla testa di steve no probabilità di essere l'assassino tipo il 45 per cento e io sono infatti tu sei ciccio bello che al pisello doc si 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 giri ha visto quanto sono spaventati due volte tu alle 20 o vada via cod vada via guarda dietro di te che c'è no non voglio vedere che cosa c'è ora c'è l'assassino mi sa scappa scappa di noi ma dietro di noi è l'arco doc è l'arco ma che c'è qui va di vari 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 sotto qua in tomba cos'è no è una press button to break o per male c'è stata l'acqua attenta cod cod ciao magi di montecchio dove sei sono magi quello che vende i formaggi immagiarci no perché se facciamo parkour per 20 minuti io non riesco stesso a fare il parkour vari vari vedi che si scappa si scappa ho visto chi è l'assassino oh no anch'io l'ho visto ho visto chi è l'assassino run away run away allora l'assassino dovrebbe essere questo eh io ce l'ho dietro no 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 ho sbagliato sono tornato al lab guardi che bello le marder con le shader cosa sei tu no vai 2 1 il marder has to be seven the sword ma non mi ha detto se sono innocente o niente vabbè ma se non hai la spada non sei che figato risposta non lo voglio attivare salve doc abbiamo vinto le dice un quarto finisco in chi fa ma io c'ho la del tia neto oggi io ho streamato fino filmato anche stava ciao registrato anche stamattina io dovrei renderizzare un video ma non c'ho palle vai l'albero albero signori albero gratis mi nasconto qua sotto è bellissimo doc venga qui doc ma non l'inseguo a me ma lei è di morte sua vabbè ho capito no 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 doc lei non rimane a vivo no 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 ma parca vieni a ricotta basta doc che ne dice se per riprendere aspetta un attimo torno subito Per nostro video bellissimo Via 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 Cod venga qui Cod Venga qui Dicevo che ne dici se riprendere Eons Doc non ho la TNT No no proprio lui Dicevo che ne dici Doc che lo giuro non ce l'ho la TNT Guardi Però si c'è gente con la TNT La TNT Scappa Che questo è più maniaco E' il maniaco Dicevo che ne dici se riprendere Eons Ci sono un botto di mappe gratis Sui Eons molto carine C'era tipo una Mi hanno editato Te lo faccio vedere Ma che me ne frega dei tuoi video No ti prego ti prego è bellissimo No Fanculo te Te tua madre va a fanculo Come l'hai Vai via dei coglio Ma dai Ma è impossibile averci le persone attaccate Io questo qui lo rinseguo fino alla fine Anche lo rinseguo tutti Cinque Comunque Marty Ma hai fatto No no L'ho ucciso Dica signor te Io adesso Cioè a me è morto il computer Cioè il mio computer sta avendo segno Cioè sta avendo segno che sta morendo Bello Come gli arabi no Barbio come l'hai adegu Fanno un po' così Ma perché Cioè Tra tutte le persone Ucciditi Ti consiglio di fare una cosa Magari ci faccio un estratto Non lo so Voglio fare una cosa Aspetta Il mio computer sta avendo i primi segni di morte Dovrei andare a mettere un'impostazione su Spotify Però non ho Eh sì su Spotify su Cosa ma non c'ho voglia No ma mi ha sponato con uno vicino Guardate già la TNT Cioè a me sta morendo letteralmente il computer No c'è un'altra TNT Mi sentite alto e basta Ehi vieni qui brutto bastardo Marty mi senti Ti sentiamo normale te Cioè è un pochino basso rispetto al solito Ma in teoria ti dovrei avere al 100% Quindi ok Aspetta aspetta Rimedio subito Un po' basso Rimedio subito Guarda questo guarda questo No è altissimo il volume Non dovresti sentirmi bassa Marty posso farti vedere una cosa in live Aspetta che esplodono la gente Appena finita la partita La facciamo vedere Vediamo Ma va che bello Minecraft shaders Sì Minecraft shaders Minecraft con le shaders Grazie a Terror Che sei utile Almeno fai punto esclamativo YouTube Per il povero Per il povero Per il proprio file Sono un bravo mod Grazie per il follow Di che boh Buonasera Di che boh Buonasera Potreste seguire se c'è te Grazie per il follow Non accettiamo spam Ma in live Mi si sento o no Ma in live Mi si sento Via 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 In teoria si Mark Ok si mi si sento Potresti seguire Non accettiamo Lo vanno o no È in live È in questo momento In live Ciccio gang Tifu Guarda Guarda Ma le viene 8-1 alla volta Vabbè Forse vinco la mia Prima cosa Io sono a motto Ma che cazzo di voce ha Cosa vuol dire C'è Il tuo italiano Poco corretto Non mi pare corretto Il tuo italiano Annaggia te E Lo so Sono bello Simpatico No ma io mi stacco Cioè Doc Lei è morto Tra 5 secondi Siamo raggiungi Fa Io ti spacco La famiglia Siamo raggiungi